Grazie, grazie Carmine per la linea qui direttamente dal Poggio con il responsabile dell'area tecnica Giorgio Repetto, un grande amico. Insomma è stato per 12 anni, lo dico subito in apertura perché lo volevo dire, lo avrei detto prima o poi, 12 anni opinionista della nostra emittente. Opinionista a te non è mai piaciuto? No, penso che opinionisti sono tutti, comunque un minimo di opinione su qualsiasi cosa c'era. Siamo stati compagni di avventura IET e Arete 8, quindi 12 anni divertenti e devo dire che mi manca pure, ti dico la verità. Chissà che, vabbè vedremo, vedremo, chi verrà vedrà. Giorgio allora facciamo il punto della situazione come diceva il direttore Carmine che è in studio per il TG, situazioni infortunate, intanto ci sarà il recupero sicuro certo di Brugman, e quasi certo anche mi pare il recupero di Campagnaro. Beh, quello di Brugman dovrebbe essere più sicuro. Campagnaro non si è ancora allenato, anche Brugman si è allenato a parte, però insomma sono anche due giocatori che fanno la differenza nella nostra squadra. Brugman onestamente ha tirato la carretta per molto tempo con un dolore all'adduttore, ha giocato più partite con delle infiltrazioni, quindi chiaramente l'abbiamo portato proprio al limite. Credo che queste due settimane, tre settimane di sosta gli possano aver fatto solo bene. Quindi grande professionalità, lo sottolineiamo da parte del capitano. Di tutti, ma lui quest'anno veramente ha giocato in condizioni proibitive. Giorgio, facciamo invece il punto perché è chiaro che questa è la settimana di sosta, provvidenziale per tanti motivi, recupero delle energie mentali, come ha detto Pilon a fine match con Cosenza, ma anche perché consente al tecnico questa sosta di recuperare giocatori importanti di cui abbiamo testé e parlato. 8 gare all'epilogo della stagione, 4 scontri diretti di cui 3 all'Adriatico, dove finora il Pescara ha fatto meglio di tutti insieme col Brescia. 30 punti, 9 vittorie e 3 pareggi. Sì, abbiamo avuto un bellissimo rendimento in casa, non abbiamo altrettanto rendimento con le grandi del campionato, abbiamo avuto qualche passo falso fuori casa, logicamente di più, in casa però con Cittadella e Brescia. Quindi tutte le partite sta dimostrando il campionato che sono difficili, sono complicate e noi spero che ci si arrivi con il vento in poppa, nel senso stando bene fisicamente, avendo l'entusiasmo che dobbiamo assolutamente avere perché dopo un campionato come questo i giocatori hanno dato tutto e adesso devono tirare fuori anche le ultime energie, ma credo che siano per forza entusiasti di quello che hanno fatto. Ecco, il rollino di marcia, lo diciamo senza tema di essere smentiti da parte dei Piloni, è inappuntabile. 45 punti, avremmo messo tutti la firma alla vigilia di questo torneo. Nell'ultima gara, non benissimo eufemisticamente, una squadra bloccata, tatticamente più difensiva che offensiva. Ma ci sta? Sì, è una scelta tecnica, tattica più che tecnica, di mettersi in un certo modo. Potevamo rischiare qualcosa in più, potevamo anche rischiare di perdere la partita, potevamo rischiare di vincerla. Chiaramente ognuno la vede a modo suo, però può darsi che poi alla fine magari quel punto lì possa essere importante. Quindi tutti quanti siamo rimasti un po' così a vedere la partita, specialmente il primo tempo, direi più che altro, più che tutta la partita. Però è un campionato duro, ci siamo arrivati con veramente le risorse fisiche un po' ridotte a lumicine. Come dicevi tu, credo che questa settimana di sosta sia arrivata nel momento giusto. Cosa che magari non ci è successa quando si è fermato il campionato a Natale, dove stavamo veramente volando, dopo la partita di Salerno. Assolutamente. Tutto ancora aperto in teoria, anche per la promozione diretta classifica la mano. Andiamo piano. Il vantaggio del Brescia e del Palermo è evidente, perché hanno più punti di tutti e hanno una partita in più da giocare. Mi sembra che hanno già riposato tutti e due, quindi credo che loro lo possono perdere e tutti noi che stiamo dietro possiamo solo sperare che nei loro passi farsi. Però talmente sono tanti i confronti diretti tra le squadre che stanno in alto che può succedere ancora di tutto. Il futuro di Giorgio Ripetto? Blindato? Beh, parlavo... Blindato dal Pescara. No, dico parlavo prima, ma io mi sto avvicinando piano piano al Son Eterno, quindi voglio dire io... Eh vabbè, non crede che ci mancherà molto, però voglio dire... Conta lo spirito. Sì, no, ma io mi sento giovanissimo, se no io mi sento giovanissimo. Ma ho il contratto, rimango qua, ora chiaramente bisogna che... penso che sia già tempo questo da parte della società di stabilire bene quello che si deve fare per il futuro, cioè nel senso di sapere cosa, come e chi lo deve fare, cioè perché è importante mettere le basi per sapere quali sono i ruoli, per sapere quello che si deve fare e come lo si vuole fare. Ecco, ma questo ruolo piace a Giorgio Ripetto, il responsabile dell'area tecnica, perché in realtà, insomma, è chiaro, è più una sorta di consulente, Giorgio Ripetto, del Pescara, no? No, discorso di piacere. Io qua, come contratto avevo la stessa identica dicitura, direttore dell'area tecnica, però avevo molto spazio sul mercato, direi quasi carta bianca, nel senso di muovermi come volevo. Quest'anno mi è stato chiesto qualche consiglio all'inizio e poi per poco più tardi, quindi ho capito che il mio ruolo era quello di stare con l'allenatore, con la squadra e via dicendo e faccio quello. Se mi chiederanno prossimamente di interessarmi anche un po' della formazione della squadra e come si vorrà fare, me lo diranno. Per adesso non è un problema, ho questo ruolo, mi piace, sto bene con l'allenatore, sto bene con i giocatori, quindi non ho nessun problema. Ti faccio anche una domanda, prima di chiudere, Giorgio, sul settore giovanile, perché comunque la primavera sta facendo un ottimo lavoro con Luciano Zauri in panchiera. Ci sono anche elementi interessanti, non possiamo dire se di prospettiva perché è ancora presto, però ci sono dei giocatori che potrebbero magari tornare utili anche per la prima squadra. Io credo che per la prima volta mi sembra che ci siano almeno 5-6 elementi che potenzialmente possano giocare a caccio. Parlo della primavera perché poi gli altri non li ho visti, ma vi dicono che anche nelle categorie inferiori, under 17, under 15, ci sia qualcosa di importante. Io quelli che ho visti in primavera mi sembra che abbiano delle possibilità. Poi se possono arrivare a giocare in A, in B o in C, lo dirà il futuro, però potenzialmente mi sembra che abbiano delle ottime qualità. Io personalmente preferisco puntare sui giocatori di proprietà piuttosto che prendere in prestito dagli altri. Ti faccio l'ultima sul campionato, tornando alla prima squadra, quanti punti servono per chiudere il discorso play-off? Credo che la situazione sia complicata con questi ricorsi contro lo Spezia, ma soprattutto perché come sempre in Italia non si prendono delle decisioni. Il ricorso del Livorno contro lo Spezia è stato già inoltrato da un mese e non c'è stata ancora sentenza. Ora si è accodato anche il Benevento, quindi se lo Spezia viene condannato a perdere le partite in cui ha giocato Occhereche e con le squadre che hanno fatto ricorso, rimarrebbe 34. Chiaramente è difficile ipotizzare che in otto partite possa fare 20 punti, quindi magari gliene dai anche 16, quindi la quota potrebbe essere 53-54. Se invece lo Spezia si ritrova a 40, credo che ci sarà ancora da camminare e ci vorranno 55-56 punti. È vero che in estate, la scorsa estate, Giorgio Repetto aveva bloccato l'Avantia? No, io avevo telefonato all'Intella, con cui ho buoni rapporti con il direttore sportivo, avevo parlato con il procuratore di L'Avantia che mi diceva se viene a Pescara non lo faccio andare neanche in ritiro, è una piazza che gli andrebbe bene, è un procuratore Ferrari, l'Avvocato Ferrari con cui abbiamo rapporti buoni, però poi ho capito che non avevo quel compito, quindi sono rimasto fuori. Ma non è che magari arrivando all'Avantia avevamo 60 punti, magari ne avevamo 30, perché poi i campionati si giocano nelle squadre di appartenenza, è difficile fare un paragone, non possiamo prendere per buoni i gol che ha fatto lui, perché magari veniva qui e non ne faceva neanche uno. Non c'è dubbio, grazie a Giorgio Repetto, responsabile dell'area tecnica, qui manca tantissimo la televisione. Allora, a questo proposito, digli a Giorgio che noi lo aspettiamo sempre a braccia aperte qui a Rete 8 come opinionista, perché ha sodato che si può fare l'agente di un calciatore e l'opinionista televisivo, a maggior ragione si può fare anche il dirigente sportivo e quest'altro mestiere. Quindi lo aspettiamo a braccia aperte qui a Rete 8, quando vuole. Giustamente il direttore dice che ti aspettiamo a braccia aperte in televisione perché non ci sarebbe nessun conflitto, alcun conflitto di interesse. Anche da rispondere, ci sono tanti casi. Penso che saranno, no, i casi li ho visti e mi è meglio che ognuno stia a posto suo. Quando sarà il momento, se mi prenderete ci tornerò molto volentieri. Perfetto, grazie, grazie a Giorgio Repetto. Un abbraccio anche a Giorgio Repetto.